La natura ci sorprende con una pianta molto comune, già conosciuta dai popoli antichi come simbolo di fertilità e potenza generatrice. Il noce, la juglans regia, walnut, rimedio tra gli assistenti del repertorio floreale del dottor Bach. Ogni nascita e ogni cambiamento vanno protetti da interferenze esterne, perché è nel momento del mutamento che si è più fragili. Un evento, una parola, una situazione possono distogliere l'attenzione dal cammino evolutivo intrapreso. Walnut incarna questo messaggio in tutto il suo essere. I suoi rami sono grandi e larghi. Essa occupa molto spazio e la sua ombra cade lontana. Poche altre piante riescono a farsi spazio nelle sue vicinanze. I fiori femminili spuntano alla scella delle foglie sui rami, a gruppi di due e tre, con una forma caratteristica di fiaschetto, un grembo materno protetto, dal quale spuntano gli stigmi come corni pelosi, gialli, in attesa dell'impollinazione per via aerea. E il cambio di colore, da giallo a rosa corallo, a testimoniare il cambiamento avvenuto con la fecondazione. Da questo momento la struttura si ingrossa e si fortifica, sviluppando un rivestimento molto spesso, il mallo, di colore verde, la cui polpa è ricca di sostanze amare per proteggere il seme al suo interno, la noce, che con il suo guscio legnoso e coriaceo garantisce protezione ai due fragili gherigli. Nessun animale riesce a penetrare il mallo, pertanto il giovane seme si sviluppa senza interferenze. Solo a maturazione avvenuta il mallo si spacca e permette la fuoriuscita della noce. Lo stesso schema di protezione e deterrenza si manifesta sia nelle radici, che grazie alle sostanze amare contenute avvelenano eventuali piante infestanti, sia nelle piccole foglie primaverili di colore bronzo purpureo, che grazie alla presenza di tannini e oli volatili con odore forte, respingono l'attacco da parte degli animali. L'isolamento e l'autoprotezione sono spinte al massimo per difendere ogni struttura in evoluzione, come in un grembo materno, i guscio da prima resistente, per garantire la maturazione della noce. Successivamente a sviluppo compiuto diventa flessibile per permettere la fuoriuscita e l'adattamento del seme alla nuova vita. Grazie per la visione!